Funziona! Guarda che non mi vede, spara! Vai, spara, spara che tanto sono invisibile! Bello mio! Funziona! Il glitch dell'invisibilità! Grandi raghi, sono Enzo e bentornati quest'oggi finalmente! Carichissimi come mai sul canalozzo! Con un nuovissimo video di Fortnite! Tanto per cambiare, come sicuramente avrete anche già letto al titolo, siamo tornati con un nuovo glitch! Questa volta però non si parla di glitch di punti esperienza infiniti, bensì glitch per diventare invisibili su Fortnite! Tutto vero, l'abbiamo scoperto ieri sera! Prima di iniziare però mi raccomando, spolliciate, iscrivetevi al canale, attivate la campnellina, qui sotto nei commenti fatemi sapere se anche voi siete riusciti ad applicare questo glitch e soprattutto vi ricordo di seguirmi sempre su Instagram, TikTok, tutti i giorni siamo live su Twitch e ZTV, vi aspetto! Torniamo in noi carichi duri, iniziamo questa grandissima avventura con la speranza di riuscire a fare questo glitch che non è semplicissimo, ma ci dobbiamo provare! Ci siamo! Allora, una volta entrati in game ragazzi, io direi, visto come droppa anche questo bus, di andare a stretto sonno lento, perché dobbiamo andare in una città poco frequentata, per riuscire a fare questo glitch meno gente è, meglio è, altrimenti raga non riusciremo mai a farlo, di per sé il glitch non è che sia difficilissimo, è difficile più che altro trovare gli oggetti che ci servono per realizzare quest'ultimo. Avete capito? No, neanche io, perfetto! Allora, dirigiamoci qua, tra l'altro vi sono preso pure la prova, ah vorrei io! Guarda come allarga ste cammine! Secondo me sono da solo molto, no non è vero, ecco guarda perché ci deve sempre essere il figlio di p***a! Mannaggia Rucarme! Allora, prima cosa ragazzi, dobbiamo munirci di due cose fondamentali, kit e pupazzi di neve, sono essenziali per poter dar vita a questo glitchero, in tutto questo non ho trovato nessuno dei due, perfetto, buono 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 buono, entriamo qua dentro, iniziamo a fullarci, abbiamo anche la metraglietta blu, questo qua volendo me lo potrei anche già sfondare, no ragazzi ce n'è più di uno, non ci credo, allora con calma Enze, con calma, qua sotto, qua sotto, qua sotto, qua sotto buono, me li devo fare vecchio, me li devo fare, arato questo, oh c'è un altro in fondo, l'ho visto? Raga questo qua l'ho proprio arato, è un hit, no non ci credo, vecchio vecchio vieni qua, vieni qua, vieni qua che ti distruggo, ok grazie, grazie ragazzi, grazie mille, due kill, molto molto semplici, in tutto questo comunque, non perdiamo di vista il nostro obiettivo, che è quello di far, e dar vita a questo glitch, e mostrarvelo soprattutto, ma vedi tua sorella, quella grandissima donna, faccia un pompochis, che lo prendiamo immediatamente, mi servono un medikit raga, medikit e pupazzi di neve, non siamo neanche in safe, ma questa non è una novità, perché noi non ci siamo mai, è possibile che qua non ci sia nulla, dai, è tutto uno loot, ce la possiamo fare, un medikit, buona nonna quella grandissima, perché, perché, perché non è difficile da fare questo glitch, mi servono semplicemente due cose, abbiamo visite boys, abbiamo visite, ah qua dentro tra l'altro, va bene, va bene bro, ma guarda che scappa, guarda che scappa sto coniglio, guarda che scappa, a coniglietto, sì, sì, mamma mia signori, big broskin tangenziale, a ratto, però in tutto questo non sto vedendo, ma manco lui c'era il medikit, dai raga, ma non ci sto a credere, signori, è stata una città, estremamente sfortunata, cioè delle due cose che dovevamo trovare, non ne abbiamo trovato manco mezza, quindi adesso io direi di andare verso crocevia, un medikit ai pupazzi di neve, ma chi li usa, ma chi li usa, soprattutto i pupazzi di neve, ma chi li usa, madonna, sgana flower, pucciorenza, pindie, hanno lottato veramente tutto, cioè manca un kit, manca un pupazzo di neve, fermi, un medikit, signori c'è il med, il pupazzo, no, no ragazzi, ma quanto roba c'è qua dentro, se trovavo anche il pupazzo di neve così, non ci credo, ok, allora, abbiamo il medikit, raga, siamo a uno su due, se riusciamo a trovare anche i pupazzi di neve, vi mostro il super ed immenso glitch, qua non, no, io non ci credo che non ci stanno i pupazzi di neve, io non ci credo, devo trovarmi sti pupazzocci di neve, dove stanno, e sono quelli un po' più difficili, perché il medikit oggettivamente bene o male lo trovi, ma i pupazzi di neve sono già un po' più rari, oh ragazzi, fermi, ma sono qua i pupazzi di neve, scusa, scusa un attimo, scusa un attimo, ma se facessi una cosa molto importante, regà, regà, fermi, ragazzi, fermi, ho trovato il pupazzo di neve, ho trovato il pupazzo di neve, scappa vecchio, scappa, ok, buono, 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 dobbiamo andare in safe, sta funzionando, buono, siamo invisibili, signori, siamo in via, allora adesso se qualcuno passa qua, non ci vede, noi siamo incredibilmente invisibili, ecco, guarda, 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 no, regà, 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 fermi, 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 sta funzionando, allora la cosa brutta di questo glitch però è che se io mi muovo, lui mi vede, torno visibile, ok, vieni a prenderti il medikit, vieni a prenderti il medikit, vieni a prenderti il medikit, vieni, 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 non c'è razzi, ferma, non c'è razzi, non c'è neanche, la madonna, chi si spara? Sì, 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 bello Gucci way ragazzi, bello Gucci way, sono invisibile, ragazzi, 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 guarda, 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 ciao bello, sono in via, siamo in via, ragazzi, il problema è che c'è la tempesta, quindi ora esco, ora esco, ho preso la mitraglietta, mamma mia raga, comunque, sta roba è assurda, se voi riuscite ad arrivare in endgame, con medikit e pupazzo di neve, signori, non vi dico che la win è assicurata, ma quasi, sarebbe stato ancora più bello, se con il glitch, io fossi riuscito a sparargli da invisibile, sarebbe stato probabilmente, un glitch troppo OP in quel caso, cosa cavolo ho visto, cosa cavolo ho visto, e se loro ti sparano, non ti prendono, perché appunto sei invisibile raga, non ti possono fare proprio nulla, con il glitch dell'invisibilità, noi vinceremo questa partita, ma pensa arrivare in endgame, con pupazzi di neve, medikit, mettersi invisibile e vincere il game, cioè sarebbe pazzesco, in questo caso, noi siamo stati sfortunati, perché la safe non era della nostra, se no ci saremmo divertiti tantissimo raga, io credo in te, nelle bambole mio, ce la faremo, pupazzi di neve raga, no mi serve il medikit, no signori mi serve il medikit, se lo trovo, se lo trovo piango, vi prego, vi prego, vi prego, l'ho arato, l'ho arato, l'ho arato vecchio, l'ho arato, mannacce Rukar, ma mai una gioia oh, ma mai una gioia raga, un piccolo medikit, mi servirebbe, voglio diventare invisibile, in endgame, voglio fare il glitch, anche a fine partita, mi serve solo, una scatolotta di medikit, ma non ci posso credere, che non c'è in questa zona, tra l'altro siamo anche, in un villaggino, forse si aprisse il drop, è che sta proprio dall'altra parte, questo drop, è un po' brutto, è un drop un po' rischioso, qua mi sa che c'è gente, no dal drop c'è gente raga, no 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 no, da quel drop lì non ci posso andare, perché c'è gente, io non ci credo, mamma mia, per un medikit, per un medikit, signori fermi però, fermi, io ci provo ad andare, me la devo rischiare, allora ne abbiamo uno qua sopra, uno dietro, il fatto però è che se loro non mi vedono, prendere tutto ciò, ok, si sparano, si sparano, si sparano, buono, non ho neanche molto materiale, non ci credo, fermo, fermo, devo andare in safe, devo andare in safe, devo andare in safe, signori sono invisibile, sono invisibile, sono invisibile, sono invisibile, ah 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 ah, ah 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 ah, raga, raga, oddio sono invisibile, ma che è quel tronco che cade giù, oddio cosa, dimmi che sto registrando, no cosa sto vedendo, cosa sto vedendo, allora sono rimasti in cinque, noi siamo tranquilli, 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 nascosti e invisibili, un'intelligenza ragazzi, è il glitch della vita, madonna ste cose, ste cose mi piacciono un botto, mi piacciono, mi raccomando raga, se volete che fratello Eze, continui a portarvi questi glitch, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici, importantissimo, ma sapete cosa posso fare raga, la gioco così raga, la gioco così, la gioco così raga, calma 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 calma, ora io mi paddo, e provo a diventare, ancora invisibile nella prossima safe, ci provo, let's go via, scappate, scappa più lontano che poi vecchio, più lontano che poi vecchio, ho pochissimo mazzo, no, no, buono, buono, sono dietro qua, non mi puoi prendere, calma, dovevo provarci, sono invisibile, fermi, fermi ragazzi, ragazzi, cosa sto facendo, cosa, cosa sto facendo raga, cosa sto facendo, non ci credo, non ci credo, sono tornato invisibile, siamo tornati invisibile, è il gameplay della vita, è il gameplay della vita, mi raccomando, ti aspetto su Twitch, tutti i giorni signori, prossima safe dall'altra parte, non ho, non ho una safe a favore, e dammi il medikit, devo fare un po' di maz, non ho una safe veramente a favore, raga comunque, buono, bravo Eze, bravo Eze, non sembro manco io, attenzione, almeno c'ho like, buono, almeno c'ho like, almeno c'ho like, almeno c'ho like, ah c'è pure il tipo là, oh mamma mia, è scopato, sì 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 sì, calmo così, ma sono in safe qua, diciamo che per me in questo momento fare il glitch dell'invisibilità è praticamente impossibile, non lo posso fare boss, non ho più materiali, devo giocarmela così, siamo arrivati alla fine con il glitch, va bene, comunque vada, vai vai che si spammano loro, vai che si spammano loro, vai che si spammano loro, qua sotto c'è un altro, guardalo lì sotto, ma che è, ma raga, ma dai ma è una pubblica, ma stanno giocando a box, ma che è, ma manco in un, in un torneo di ford nei momenti si arriva così, questo qua sotto mi scioglie, io non ho più materiali, va bene, va bene, va benissimo signori, sarebbe stata veramente la ciliegina sulla torta, winnare con il glitch, però, guardate che raga, ma è una pubblica, comunque signori, e anche oggi, il glitch che abbiamo portato sul canale, funziona contentissimo, soprattutto molto, ma molto divertente, devo dire, quindi mi raccomando, qui sotto nei commenti, fatemi sapere, cosa ne pensate, provatelo eventualmente anche voi, e soprattutto ditemi, se ci siete riusciti, da fratello a Martelletti è tutto, io vi mando un abbraccione, un salutone, iscrivetevi al canale, attivate la campellina, noi ci vediamo qui, ad un prossimo appuntamento, ciao patati! iscrivetevi al canale, grazie a tutti!